Benvenuti cari follower. Prima di iniziare non dimenticate di supportarci mettendo mi piace a questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella su tutte le notifiche in modo da poter ricevere tutte le novità ed esclusive sul tempo in Italia. Se gli aggiornamenti saranno ancora coerenti con il modello europeo, si prevede che temporali molto forti entreranno in Italia a partire dalla notte di mercoledì 13 settembre e proseguiranno fino a venerdì 15 settembre 2023. Questi temporali entreranno gradualmente ed inizieranno nel zone di confine con Francia, Svizzera e Austria, per poi entrare gradualmente nelle regioni del nord e poi del centro Italia. Per quanto riguarda le regioni meridionali, sono completamente immuni da questi temporali. Venerdì 15 settembre sono attesi forti temporali sugli stati settentrionali e centrali dell'Italia, accompagnati da forti precipitazioni di grandine di piccole e medie dimensioni, con piogge abbondanti che potranno essere abbondanti in un breve periodo di tempo che può portare alla formazione di alcune piogge torrenziali. Pertanto è necessaria la massima prudenza e dettagli più precisi sulle zone specificamente interessate da questo forte temporale vi verranno forniti nel prossimo video. Possate infine rimanere in buona salute!